il gerundivo è un aggettivo verbale che si forma aggiungendo al tema del presente le seguenti desinenze andus anda andum per la prima coniugazione e avremo amandus amanda amandum da amare che deve essere amato le terminazioni della seconda coniugazione sono endus enda andum per cui avremo videndus videnda videndum da vedere che deve essere visto per la terza avremo endus enda andum dunque mittendus mittenda mittendum da mandare che deve essere mandato per la quarta abbiamo iendus ienda iendum quindi audiendus audienda audiendum da ascoltare che deve essere ascoltato per quel che riguarda i deponenti la formazione è analoga prendiamo a titolo d'esempio il classico ortor ortaris ortatus sum ortari della prima coniugazione anche qui le desinenze del gerundio sono andus anda andum per cui avremo ortandus ortanda ortandum da esortare che deve essere esortato